Ciao, creatura, io sono Ecati Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kozai Asma Questa sera, come letto dal titolo, andrò a rispondere, 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 rispondere al tag ideato da Lily ASMR Sono stata taggata da ASMR Ste che saluto, ciao, grazie Ste per avermi taggata Ma prima, 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 prima voglio salutare alcune creature che hanno commentato un ultimo video L'ultimo video che ho sotto mano in questo momento Sasha, my love, Sofia Camisa, 17, 15, useful, idiot o idiot, Rosie, YH3XK, Riccardo Mala, 95, 86, ASMR Gio Gioi, Trilly, OT5VM, NGCAT, 306 Isola di Sussurri, SML, Vali Madness Grazie a tutti per aver commentato, se vuoi anche tu essere salutata, mi raccomando, creatura, commenta, commenta, commenta sotto i miei video E quindi avrei sicuramente la possibilità di essere nominata e salutata in uno dei miei video Vanno bene anche i soliti commenti, mo' girando Questo appunto, abbiamo detto, è un video creato da Lily ASMR Lascerò le domande nell'info box Io le prendo appunto dal video di ASMR Ste che è la persona, l'artista ASMR che mi ha taggata Allora, andiamo con delle risposte molto, con questo tono lento, suave, sussurrato Così che tu, creatura, mettiti pure in comoda che ha indosso le tue cuffie Che adesso partiamo con le risposte Prima domanda Come ti chiami e quanti anni hai? Mi chiamo Ecco, ti chiedono, non si chiede l'età, una divinità A parte le scherzi, mi chiamo Marta e ho 35 anni Due, hai mai avuto animali domestici da piccola? Ho avuto i lemming, quei specie di grigieti, che sono grigi, che si narra che siano dei, non si può dire su YouTube Comunque che si tolgano la vita da soli Ecco, in un certo periodo della loro vita decidono No, basta, io esco Maria, io esco E quindi ho avuto quelli, ho avuto i due, entrambi ucciti, ucciso anche questa parola Dai miei genitori per spadataccine, si può dire, delle morti orribili E tipo mia mamma ha preso la cappietta, la messa fuori e non si era accorta che stava al sole Quindi, che brutta morte Vabbè Vabbè, è andata così, cosa si può fare? Poi dopo, non sono più, ho aspettato di essere un po' più grande, che così potevo prendermene cura E nessuno avrebbe messo le sue zampacce, manacce genitoriale E le avrebbe fatto fuori Mi sono presa le superiori Perché lì si parlava di medie Cioè, le superiori Mi sono presa un ratto domestico Che si poteva sempre tenere dentro una cappietta E senza la coda era così Con la coda era tipo il doppio Perché hanno la coda molto lunga Ricordano proprio dei ratti Veri e propri Quelli che qualcuno sarebbe Gli schifosi ratti Che stanno nelle fogne Anche se poi Era diventato un mio grande interesse Questo ratto domestico Prima di acquistarlo Mi ero informata Perché ci sono diverse razze, tra l'altro Ecco Io ho scelto la razza Dumbo La chiamano proprio così Perché ha queste orecchie Molto ampie Tipo Dumbo Quello della Disney L'elefantino Poi c'è la razza Rex Che sono quelli Che hanno tipo Il pelo tipo pecora Tutto ricciolo Oppure ci sono quelli Nudi Che sono come i gatti Quelli senza pelo Però sono topi Non mi piacciono tanto Perché Non è che sono brutti È che Mi piace la morbidezza Cioè Se accarezzo Un animale Mi piace sentirne La morbidezza Del pelo Magari sono morbidi Anche quelli Senza pelo Però Non lo so Non mi ispiravano poco Ecco E Sono andata In un centro commerciale A Ferrara Perché lì avevano L'allevamento E Invece che faccio anche dei suoni Avevano L'allevamento L'ho L'ho acquistato lì E Perché erano Vaccinati E tutto Insomma E non portano malattie Se vivono Nel pulito È ovvio che Se vivono nelle fogne Ovvio che Hanno malattie E le prendono Ma se le tieni in casa Puliti Sono anche animali Molto puliti Loro si lavano E Mi fa ridere Che se gli dai l'acqua Loro si fanno tipo La dozzia Sono troppo carini E ho preso Ho anche scelto Tra femmina e maschio Perché mi hanno spiegato Che il maschio È molto Diciamo Sensibile E se viene Se non gli dai Abbastanza Attenzioni Va in depressione Io ho detto No Pure Il dopo depresso Non posso farcela Datemi una femmina Ho preso questa femmina Che all'inizio era grigia Poi dopo Crescendo Che era un cucciolo Crescendo È diventata marrone Quindi all'inizio L'avevo chiamata Aske Che vuol dire Genere in norvegese Anche altri significati Però Genere in norvegese E E poi Però dopo ha cambiato colore Però non importa Lei rispondeva a questo Questo nome Quindi Va bene E Invece I lemming Li avevo presi Prima una femmina Un po' un maschio O viceversa Se non mi ricordo L'ordine In un Negozio Di animali Qui del mio paese Che con Tipo Compravi Non so 8 euro Di tipo 2 euro Un'ora così Di mangime Ti regalavano Il grigietto Faceva ridere Stacolo Sì Avevano fatto Questa offerta Che infatti Mi approfittavano Cioè Vendeva Vendeva Ecco Vendeva E poi Quando Dopo tre anni e mezzo Aschi si è malata Le è venuto un tumore Morta Volevo Un gattino Perché Sono passata Da animali Sempre più piccoli Fino Ad arrivare An animali Più grandi Ecco E Lavoravo In In uno studio Fotografico In quel In quel periodo Prima di Prendere Sam Mia mamma Mi aveva Portato a casa Un gatto nero Un gattino nero Abbastanza Selvatico Perché Veniva da una Cucciolata Di una famiglia In campagna Ed L'avevano preso Ma lui era Terrorizzato E io L'ho cercato L'avevo Ammaestrato Però mia mamma Mia mamma Fa così Quando qualcosa Non è come Dice lei Lei Lo abbandona Vabbè E Quindi Io ero andata Al lavoro Sono tornata A casa In quel periodo Lavoravo E vivevo A Rovigo E Quando sono tornata A casa Lo trovo Più il gatto L'avevo Ho chiamato Ottobre E Niente Ho chiesto A mia madre E mia madre Ha risposto Che l'aveva fatto Venire a prendere Dalla famiglia Dove Stava E quindi L'ha rimandata Indietro Ero tutta Arrabbiata E Ne ho parlato Con la mia capa Al lavoro E le ha detto Ma Non si fa così No Cioè Non si ha tutta Un animale Poi Loro Si è rimanda Indietro Lo so Ma non era mica Colpa mia Io volevo Tenere Ma Appunto Mia mamma Se non è come Dicono Cioè Lei non puoi Prendere Né un animale Né un bambino E pretendere Che sia come tu Hai idea Nella tua testa E E poi Rimandarlo Al mittente Ma lei Ha sempre fatto così Anche con gli esseri umani Quindi Non si è fatto problemi A Ridarlo indietro Ecco Questo povero Povero gattino Spero che adesso Sia in campagna Chi però Farsi le sue cose Ecco Perché era abbastanza Selvatico Selvaggio Come si dice Selvatico Mi sa che Indietro Amareggiata Da questa situazione La mia Cappa Che collaborava Con L'associazione Una Che è Selvatico Il gattile Della provincia Di Rovico E Mi ha detto Se vuoi Ci sono dei gatti Che hanno Che cercano una casa Tenete uno di quelli Così è tuo Perché quello L'aveva portato A casa lei Ma quello Era mio Dopo non poteva Fare niente E E così Mi hanno detto Guarda Ci sarebbe Questa Gattina Che ha già Sei mesi E che Nessuno vuole Perché la portavano Nelle Da noi fanno così Poi non solo voi Nelle altre paesi Questa associazione Fa delle Tipo Bancarelle Tipo Mercato Con Le Gabbiette I Trasportini E mette I gattini piccoli O un po' più grandi Nei trasportini E Con le coperte Tutto Li porta A dei mercati Oppure anche dentro I centri commerciali Fanno tutti i tavolini E fanno Adottare Questi animali E E c'era questa Gattina A tre colori Che nessuno voleva Perché aveva già Sei mesi Era sterilizzata E considerata Troppo grande Per essere adottata Io ho detto La voglio io Non la vuole nessuno La voglio io E Sam Non sanno cosa Si sono persi Perché Sam È il gatto Più simpatico E intelligente Dell'universo Quindi ci hanno perso loro E È un po' speciale Però vabbè Come me E quindi L'ho adottata Io Sam Me l'hanno portata lì Mi ricordo Era a febbraio Nevicava E Me l'hanno portata lì In ufficio E Me l'hanno portata via Camminando sulla neve Con sto trasportino Perché all'epoca era Sei mesi Ed era molto Ma che piccina Adesso no Vabbè E quindi L'ultimo animale domestico Che Che ho avuto E che ho tuttora È la mia gatta Sam Sam Terzo Qual è il tuo colore preferito? Il mio colore preferito È Il Nero No Lo so che volevi dire Il verde Il verde è il mio Secondo colore preferito In tutte le sue gradazioni Perché ha tante tonalità Ma il mio colore preferito In assoluto È il nero Domanda numero 4 Ti piace lo sport? Lo hai mai praticato? Se sì Quale? Allora Io sono Una persona Totalmente Pigra Proprio Mi piace Mi piace dormire Mi piace dormire Mi piace dormire Quindi Figurati se mi piace Qualche sport Da piccola Mi hanno obbligata A fare I soliti Nuoto Dove ho subito Dei traumi Come L'isola di Susurri Se volete Sapere del suo trauma Andate sul suo canale Perché lo racconta Lo sport Mi piace guardare Forse gli altri I tuffi Quelle cose lì Ma mi annoio Quasi subito L'unico sport Che mi piaceva Anzi L'unici due sport Che mi piacevano Le ho giocate Alle superiori Ovvero Baseball Mi piaceva tantissimo Ero anche forte Cioè Veramente Riuscivo a colpire La palla Con la mazza Top Baseball Abbiamo giocato poco Ma le poche volte Che abbiamo giocato Mi sono sempre divertita Tantissimo Era veramente bello Era venuto Un giocatore Di baseball Brasiliano A farci qualche Lezione Come Gastar Perché abbiamo provato Quella scuola Avevamo provato Un bel po' Di sport Anche tennis Vabbè Basketball A volo Le solite cose Però Baseball Mi piaceva tanto Giocarci È molto divertente È anche facile Da capire Con le regole E tutto Oppure Uno sport Che A cui non gioca Nessuno A volano A volano Si gioca Di solito In spiaggia Al mare Quando si è in vacanza In realtà È uno sport Proprio Con delle regole E io andavo Il pomeriggio Restavo Restavo Su Mangiavo qualcosa Restavo a scuola E il prof Di ginnastica Le prime volte E quindi facevo Un disastro Non si può dire Comunque È bellissimo Il volano Perché Sfoca un sacco Il nervoso Avevamo Avevamo Una specie Di kit Stile Decathlon Forse L'avevano Acquistato Proprio lì Che Praticamente Avevi le racchette Le palline Tutto Che sono Con le palline Con le piume E C'era Una rete Che si montava C'era tipo Un zainetto Con tutte queste cose Dentro E c'era questa rete Che era componibile Si montava Noi montavamo La rete E poi Quante palline Abbiamo spiumato Perché Per far Per far punto Bisogna schiacciare E bisogna fare in modo Che l'altra persona Non riesca A salvare la pallina E farla rimbalzare Dall'altra parte E quindi Quando vai a schiacciare Vedi tutte le palline Tutte le piume Delle palline Che fanno Sembra come una gallina Che esplode Tipo Fa troppo ridere E quindi La nostra Alla fine Eravamo solo io E questa ragazza E quindi Il nostro divertimento Era schiacciare E far esplodere Ste palline Quindi abbiamo distrutto Tantissimo Anche perché Eravamo da sole Nessuno ci controllava Quindi Cioè Voglio dire Ok A parte che Quelle palline Bastava guardarle Esplodevano Così Quindi figurati Schiacciandole Proprio Dando il colpo Seco Zack Così Vabbè Quei sono stati I ricordi Più belli Poi dopo Quando Hanno deciso Che due persone A giocare Così Non Era Troppo Un impegno Lasciare aperto E tutto Ci trovavamo In pista ciclabile In giardino Nel giardino Nella pista ciclabile Giocavamo libero Senza rete Non è proprio Quindi Diciamo che il gioco Era Era più un gioco Che uno sport E il gioco era Non far cadere La pallina Alla fine Era Non fare punto Perché non si poteva Far punto Senza una rete Perché quel kit Lì era Della scuola Però a noi Era rimasta Sta passione Del volano Che ci Teneva unite No E E quindi Niente Che è una Una delle amicizie Di cui non ho parlato Nel video Quello dove parlo Delle amicizie Perché alcune amicizie Non le ho trattate Ah Alcune non le ho trattate Perché erano virtuali Altre Perché Dovrei dire Delle cose Troppo personali Sia Mie Che di questa persona E Spiegare a metà Non serve a niente Quindi ho detto direttamente Non ne parlo Quindi questi Sono stati Gli stravaganti Sport Che ho fatto Stravaganti Vabbè Baseball No Ma volano Ci sono proprio Tornei Non so Non è un sport Assoluto a spiaggia Quindi Lo sport Diciamo che Mi piace Solo quello Che interessa A me Gli altri Non mi interessano I soliti Tra virgolette Banali Sport Poi Quinta domanda Hai un film E una canzone preferita Allora Vabbè Film preferito Dico sempre La guida galattica Per autostoppisti Ma in realtà Ma in realtà Anche La trilogia Che c'è Stata Diciamo Trilogia Perché sono Tre volumi Dei guardiani Della galassia Oh mi piacciono le robe Con la galassia Eh sì Sarà che io sono Mi sento un alieno Ma di questo Ne possiamo parlare Dopo Perché c'è una domanda Inerente Diciamo Quelli sono Attualmente C'è sempre La guida Guida galattica Per autostoppisti È il mio preferito Top Però poi Ci sono anche I quali della galassia Che ho visto Tante volte Che potremmo Ho visto anche Lo speciale di Natale Potrebbero arrivare In cima Alla classifica Dei miei film preferiti Però Se ce n'è da scegliere Uno ovviamente Resta quello Della guida E canzone preferita Dipende dal momento Quindi Cioè avrei una risposta Predisposta Che è sempre quella In my kingdom gold Che faccio così Perché ho qui Di qua Ho il poster di Abbat Direi Oh within the dark mind Oh in my kingdom gold Degli immortal Dai dico in my kingdom gold Va bene Lost wisdom Di bursum Sono indecisa Vabbè Diciamo in my kingdom gold Maroc 3 Di Narcarot Accidenti Sono indecisa Vabbè Sto guardando le domande Mentre mi vengono delle No Narcarot A maroc 3 È la canzone Che parla di me È la mia preferita Da dodai In my kingdom gold Che dirlo È molto smr Tra l'altro In my kingdom gold In my kingdom gold In my kingdom gold Sei A quale concerto Vorresti andare Attualmente A nessuno Se non Qualche concerto Dell'immortal Ma non suonano più Quindi No Io vorrei andare A un concerto Dell'immortal Solo per vedere Abbat Che fa qualche cavolata Tipo che in jump Cada Cade Rotola giù Per una collina Che è una cosa Che è successa Per esempio Ti sei mai sentita Sbagliata O fuori luogo Eccola qui la domanda Io mi sento Sempre fuori luogo Inadeguata Tranne quando Sto sul mio canale Però quando Sto sul mio canale Dico delle cose Tranquille Poi vengono prese male E non vengono capite Ecco lì Mi sento Sbagliata Perché mi vogliono Far apparire Per una cosa Che non sono Una persona Che non sono Mi mettono in bocca Delle malignità Che in realtà Non sono state Ne pensate Ne dette Ma quello È un problema Delle persone Che vedono Il marzo In ogni cosa Quindi devo Ricordarmi Questa cosa E Però sì La mia difficoltà Nell'integrazione Con voi Essere umani Il fatto che Non so mai Come mi devo comportare Perché A volte Cioè Ti dicono Di essere te stessa Però quando sei te stessa Non vai bene E quindi Questa cosa Mi confonde molto Poi ci sono Persone Che danno Segnali confusi Che ti Sono quelle persone Che ti dicono Una cosa Poi con i fatti Ne fanno un'altra Quindi Non capisco La situazione E Se tutti Dicessimo La verità Tranquillamente È solo Più facile Ecco Invece Devi star lì A decifrare I segnali Le cose Non dette Le leggi Tra le righe Ogni poi Dipende anche Da Che ti trovi Davanti Cioè Insomma È difficile Capire Ogni Situazione Come bisogna Comportarsi Io non ho avuto Esempi Da bambina Nessuno Mi ha spiegato Bene Come fare Quindi Vado un po' A tentativi E già Io sono un po' Così In più Non ho neanche L'esperienza Quindi Devo un po' Chiedere Anche in giro E guardare Osservando Prendo appunti Nel mio cervello E dico Ok Quando succede questo Bisognerebbe fare così Però Non è detto Sempre Che sia così Quindi È un po' Difficile Ci vorrebbe Un Un libretto Delle istruzioni Anche per questo Mi sarebbe piaciuto Fare qualche corso Tipo di cadatteo Anche se ormai Non esiste più E anche quello Però Mi piacerebbe Anche quello Ti insegnano delle cose Di come si deve comportare Una persona Si sarebbe A scuola Dovrebbero fare Quello Da piccoli E non imparare Magari delle cose Inutili No Ecco Che a volte Ti insegnano Delle cose Che poi Nella vita Non servono A niente E invece Potrebbero insegnare Delle cose Basiche Della vita Come comportarci Come bisogna fare In certe situazioni Eccetera Secondo me Aiuterebbero Molte persone Tanti Lo imparano Con l'imprinting Dei genitori Ma non tutti Abbiamo Quella fortuna Ecco Quindi Spesso Mi ritrovo In una situazione E dico Cosa devo fare Che cosa devo dire E per quello Anche che vivo Anche nell'ansia Perché appunto Penso Mi proietto Già nel futuro E dico E se succede quello Allora Tante volte Immagino Diversi scenari E diverse Situazioni Che come Risolverei Quella cosa Adesso Ho smesso Di farlo Perché ho visto Che se anche immagino Poi quando Succede la cosa Il mio istinto Prevale E riesco anche A cavarmela Perché devo avere Qualche angelo Gluttone Non lo so Perché In situazioni Critiche Spuca fuori Una parte Del mio cervello Che non pensavo Di avere Che è Quella del Problem solving No? E Tac Riesco a Superare la cosa Quindi Buono Grande Good job Diciamo che Mi sento sbagliata Più delle volte Perché non Vengo Vengo Offraintesa Non vengo Proprio capita E questa cosa È triste Perché ti senti solo Ma da quello che ho capito È anche parte Della mia personalità Perché sono Solo il 2% Della popolazione È la mia personalità E quindi E quindi Ci sentiamo Un po' Esclusi A Diciamo così Incompresi Come dice Proprio la discrezione Della personalità E quindi Lo accetto E quindi lo accetto Anche Vabbè È andata così Magari nella prossima vita O magari mi evolverò Da divinità Una cosa più suprema Diventerò Non so Un universo Lo so Vediamo Hai avuto Un'infanzia felice? No Di base Già Lo posso dire 9 E ora Sei felice Diciamo Che sto costruendo La mia felicità Un passo dopo l'altro Ogni azione È chiaro Che però Non è giusto La felicità Che cos'è? Sono dei momenti Più che la felicità Sto Cercando La tranquillità Perché la felicità Non si può essere Sempre felici Altrimenti La felicità Dal mio punto di vista Si tramuta In Normalità Invece Se ogni tanto Sei triste O infelice Allora poi Dopo Quando sei felice Sai di esserlo No? La senti la differenza Ma se sei sempre felice Diventa normalità Non so Se mi sono spiegata Come concetto Quindi è giusto Ogni tanto Essere anche tristi Perché altrimenti La felicità Non sarebbe più felicità Non so se mi spiego Quindi Quindi accetto anche Mi va bene avere Dei momenti tristi Perché altrimenti Non esistesse Non esistesse la tristezza Non esisterebbe più la felicità Quindi Secondo me Non bisognerebbe Andare alla ricerca Della felicità Bisognerebbe Andare alla ricerca Della tranquillità Che poi Essere tranquilli Ti rende felice No? Non so se Che poi Dietro l'angolo C'è sempre qualche problema Che però Risolvendolo Poi Se esci dalla tristezza Raggiungi la felicità Non so come altro Spiegare Perché Perché se ci fermiamo Poi restiamo Nella normalità E la felicità Diventa normalità E quindi Non è più felicità Quindi è giusto Puntare sempre Pian piano Uno scalino Dietro l'altro Pian piano Sempre di più Però Senza mai Fermarsi Ok? Anche quando Saremo vecchi Avremo un sogno Da realizzare Per non fermarsi mai Per non rendere La felicità La normalità Dieci Come descriveresti Il tuo carattere Aiuto Allora Ah Dov'è il mio foglio? Avevo fatto un test Con lo psicologo Del carattere Dovamo vedere Preci di effetti Così così Allora Li potevo leggere da lì Il mio carattere Allora Diciamo che sono Di base Una persona Pessimista E Che insomma Vede sempre Lo scenario Più Brutto Per essere Ma è una cosa Che fa il mio cervello Per prepararmi Io sono pronta Al peggio Poi dopo Se non succede Meglio Però se succede Io sono già pronta Ok? Questo lo fa di base Il mio cervello E Però appunto Con il mio dottore Stiamo facendo Questo percorso Per Per raggiungere Come si dice La felicità E Dove Devo fare Pensieri positivi Alla Peter Pan Insomma Ecco E E Quindi Sto Cercando Di Andare contro Quello che sono io Cioè Una persona Pessimista E Fare pensieri Positivi Quindi pensare Al meglio Poi Sono una persona Abbastanza riservata Con gli astrani Molto chiusa Invece Quando mi apro Quando vedo Che c'è una persona Che è Diciamo Compatibile Con me Simpatica Che ha il piacere Di conoscermi Allora mi apro Io sono anche un po' troppo Forse Chiacchierona Che mando degli audio Tipo di 20 minuti Tipo podcast Alle persone E Raccontando Qualsiasi cosa Della mia vita E Poi Queste persone Sono poche Ecco E Chi ha il mio numero Di whatsapp Per esempio Poi dopo Sono una persona A volte Mega paziente Altre volte Allora sono una persona Mega paziente Con gli altri Invece Quando sbaglio Io mi arrabbio subito Con me stessa Con me stessa Non sono paziente Sono molto rigida E Pretendo Tipo Di fare 100% E poi Non riesco a fare Magari Nemmeno Il 2% E quindi Mi arrabbio Sono spesso Arrabbiata Con me stessa Ecco Perché appunto Mi sento Tipo Sbagliata Ecco Inadatta Fuori luogo Come abbiamo detto Prima E Quindi La maggior parte Delle volte Quando sono arrabbiata Lo sono con me stessa E invece con gli altri Lascio Che facciano Un sacco di cose Magari brutte Le perdono sempre Do 100.000 possibilità E Invece Poi Do sempre Buoni consigli Agli altri Poi quando Tocca a me Non ho mai Buoni consigli Per me Quindi così Però So Che sono Una persona leale In amicizia Non parlo Alle spalle E Cioè Se sei mio amico Sei mio amico Con la maiuscola Quindi ti tratto così E se invece Non ti tratto così Perché sei un conoscente Perché magari Mi stai O mi sei indifferente O Mi stai Antipatico Ecco Però Per L'amicizia L'amicizia Vera Io Proprio Cioè Fare di tutto Ecco E ho fatto di tutto E Sono una persona Abbastanza schietta Quindi Da un lato Posso Risultare Antipatica E Dall'altro Posso risultare Una persona Affidabile Ecco Perché Io so che Le persone Che mi stanno Accanto Sanno che Se io dico Quello E quello Non è che Ti sto mentendo Però Allo stesso tempo Quello che ti dico Potrebbe essere Detto un po' In modo brusco E A volte Con le persone Bisognerebbe un po' Mettere dei fiocchetti Quando si dice qualcosa E non essere Proprio Troppo Onesti Ecco E Io Mi sto Cercando Di 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 Arrivare A un punto Così Ecco Però è difficile Perché la mia natura Tende a farmi essere Schietta E onesta Sincera Così Insomma Solo che A volte Bisogna mentire Dipende Dalle situazioni Che devo ancora capire Bene Qual è La situazione In cui Non bisogna dire Proprio tutto La verità Esatto È un po' Complicato La Consulente del lavoro Che è anche psicologa Mi stava Insegnando A dire Le bugie bianche Che sono Quelle cose Che Si possono dire Che non fanno Del male a nessuno Che servono Però A pararci Un po' Le sedere a noi Però Insomma Non è sempre Semplice Per me Ecco Quindi Sono una persona Abbastanza Difficile Capisco Perché Non ho Tanti amici Perché Sono una persona Difficile Da Capire E Da Accettare Nella propria vita Ecco Quindi Penso che Solo altre persone Come me Che sono Orale Le trovo E Mi vogliono Accanto E quindi Io ci sto Bene E faccio Star bene Loro Quando vedo Che in Istero Le persone A avere Ansi A robe Così Perché Magari Io Non sono Non sono Come loro Mi vorrebbero Allora Mi allontano Perché Non Voglio Star accanto A qualcuno E farlo star male Ecco Quindi niente Sono Un mix Di cose positive Negative Come tutti Gli altri E Adesso Magari Non so Queste cose Mi vengono Da dire Del mio carattere E Diciamo Che ci sto Lavorando su Perché a volte Sono Troppo Sottomessa Tipo Che Altre volte Sono troppo Aggressiva E Invece Vorrei Avere Una cosa Equilibrata Perché magari Mando giù Mando giù Mando giù E poi esplodo No Invece Dovrei dire Subito Fermare la persona Che magari Mi sto facendo Del male Fermarla subito Però a volte Non è così facile Perché Magari sono persone Della mia famiglia E quindi E poi Tante altre volte Io faccio così Ma Non Non cambio La situazione Quindi a volte Bisogna Sopportare E andare avanti Quindi Lei è un po' Un casino Perché il mio Carattere Anche dipende Dalle persone Che mi circondano Cioè Se mi tratti bene Ti tratto bene Se invece sei Una persona Che vuole solo Provocarmi Allora Verrai Totalmente Ignorato Una volta Mi sarei Informata Tipo Dove abiti Sarei venuta A darti fuoco Alla casa Adesso invece Sono più Una volta Ero molto più Mi dicevano Che ero più Cattiva Ecco Invece adesso Sono più Che mando Quel paese Tanti cari saluti Ecco Però prima Avevo anche Una Una compagnia Un po' più Sbagliatina Adesso sono da sola Erano anche gli altri Che mi fomentavano Essere così Ecco Vevo dire Che non fa parte Degli amicizi femminili Fa parte Degli amicizi maschili Di cui non ho mai parlato E non parlerò Ovviamente Perché sono stato In una compagnia Di soli Uomini Ragazzi Più grandi di me Anche Ma questa è un'altra Storia E E niente Voi non avete idea Di chi io sia Io potrei veramente Se parlassi Facessi dei cheat chat Sulla mia vita Una persona Voleva scrivere un libro Su di me E gli ho detto Lascia storie Pensa alla tua vita E quindi Niente Ne avrei da dire Di tutti i colori Per cui i miei amici Si divertono troppo A sentire le mie storie Perché a loro Posso raccontarle Invece a te no Creatura Perché siamo nel web Bisogna stare attenti A ciò che si racconta Perché tanto Già io vengo Fra intesa In ogni cosa Figurati Se poi racconto Robie mie private Di altra gente Così Ecco Quindi Ma a parte che Alcuni di queste persone Non esistono più Quindi potrei anche Raccontare Però Lasciamoli in pace Nel paradiso O nell'inferno Dove sono finiti Sì Sì adesso Adesso sono più sul Vuoi farmi del male Non te lo lascerò fare Ma non Soprimendoti Ma Ignorandoti Totalmente E eliminandoti Dalla mia vita Totalmente Ok Se sei un estraneo Ovviamente Sei un mio parente Adesso ci sto un po' Lavorando Su sta faccenda Ma Se vuoi saperne di più Seguimi su IG Mi trovi con il nome HtSprendente Niente L'ultima domanda Non è una domanda Ma è un tag Chi preferisci Taggo GioGio Se non l'ha ancora fatto E credo che poi Non saprei chi altro Non ha fatto questo Video tag Taggo Chiunque stia vedendo Questo video E vuole rispondere A queste domande Spero che Questo video Ti sia piaciuto E ti sia rilassata Creatura Io come sempre Ti auguro Buonanotte Buon relax Ciao Creatura